Abbattere le liste di attesa per visite specialistiche ed esami diagnostici nelle strutture sanitarie pubbliche della Toscana. Con questo obiettivo la Regione ha predisposto un nuovo piano presentato dal Presidente Enrico Rossi e dall'Assessore alla Salute Stefania Saccardi e finanziato con 10 milioni di euro. Al primo punto c'è l'utilizzo di nuovi supporti informatici per la gestione delle liste. Le agende si buttano nel cestino, vogliamo che le registrazioni delle prenotazioni vengano fatte su supporti telematici e quindi siano tracciabili. Ma qualcosa già secondo me toglie tutta un'area ampia di grigio che bene sia tolta e a favore invece di una regolare registrazione e anche di un controllo delle stesse liste d'attesa. Quindi gestione operativa si chiama trasparenza, controllo delle liste d'attesa in modo che non ci siano furbi e chi passa avanti quando non deve. La seconda cosa che viene decisa è che ci sono dei tempi prefissati. Noi guardiamo con interesse anche a questo accesso veloce. Ma dove è stato fatto? Abbiamo visto che accesso veloce vuol dire rispondere just in time, subito, alla domanda stessa. La dove è stato fatto? Abbiamo visto che ha persino ridotto il numero delle prestazioni, con grande soddisfazione da parte di tutti, ovviamente. Quanto meno però diciamo che per sette visite specialistiche bisogna garantire 15 giorni, sono le visite più importanti e poi 30-60 secondo una certa graduatoria per tutto il resto. Quello che chiediamo, ecco questa mi pare una svolta importante che viene proposta con questa delibera dell'assessorato, è che si faccia un'intesa, si faccia un accordo con i dipendenti della sanità. Il piano prevede anche un accordo con medici e operatori sul livello minimo di prestazioni da erogare in ogni azienda sanitaria e infine la possibilità di contrattare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive nei laboratori e negli ambulatori delle aziende sanitarie e del sistema dei distretti, facendo restare in funzione queste strutture fino a 12 ore al giorno, quindi anche di pomeriggio, la sera e il sabato. Ci siamo dati dei tempi ben precisi, entro i quali la domanda di visite specialistiche e diagnostiche debbano trovare una risposta e abbiamo messo insieme e in piedi un sistema di monitoraggio costante che ci possa dare il polso della situazione in modo settimanale. Nell'ultimo rapporto sulla qualità delle prestazioni sanitarie stilato dall'Università di Tor Vergata, dopo le province autonome di Trento e Bolzano, spicca la regione toscana.